Amparso oggi all'età di 93 anni Raul Di Gennaro. Correva all'anno 1950 quando presso uno scantinato di via Bonarroti 6 veniva fondata la società nuoto e canottaggio Civitavecchia. A presiedere tra i principali protagonisti vi era un personaggio che nel corso degli anni si sarebbe imposto come uno tra i colossi storici della palanuoto locale. Raul Di Gennaro nasce a Civitavecchia nel 1919, atleta giovanissimo, diventa presto dirigente e tecnico alla fine degli anni 40. Padre fondatore dell'SNC e della parola palanuoto a Civitavecchia, il primo presidente della società ufficiale, stagione 50-51. Sotto la sua egida i mostri sacri di sempre, la palanuoto che vinceva il vivaglio e che contava la Civitavecchia che faceva paura al recco Simeoni del Duca Forcella Galli Parisi, solo per citarne alcuni, tutti monitorati e seguiti con estrema attenzione ed amore, oltre che da uno dei migliori presidenti di sempre, da un carissimo ed adorato amico dello sport. E alla fine la fumata bianca è arrivata. Il Civitavecchia Calcio si scriverà in serie D. Si è svolto questa mattina alle 9.30 all'incontro T-Day Clemeno, programmato ieri nel corso dell'Assemblea Popolare, fra i tifosi della gradinata popolare e il sindaco T-Day. Come deciso ieri, dopo un breve giro di telefonata effettuato da T-Day, Jacomelli e Scilipoti, i 18.500 euro necessari per iscrivere la squadra di calcio in serie D, scadenza domani alle ore 12, saranno garantiti da Conad, autorità portuale tramite sponsor, Tersigni e la Fondazione Caricev, tramite la persona di Cacciaglia. Nel giro delle prossime ore il delegato allo sport, Ivano Jacomelli, provvederà a consegnare a Clemeno l'assegno circolare necessario, intestato alla Lega Nazionale di Lettanti. E domani mattina Clemeno, che metterà i 31.000 euro per la fideiussione, proverà a ratificare l'iscrizione. Potrebbe non esserci il Sangordiano nel prossimo campionato di calcio a 5 femminile, certa l'iscrizione di Tirrena e Atletico, mentre invece la cessione del club giallo-blu potrebbe far saltare l'iscrizione di Tersigni e compagni, proprio il capitano. Però afferma, ci sono importanti novità in corso di svolgimento, a breve vi faremo sapere. Nel tardo pomeriggio di martedì, Patrizio Scilipoti ha incontrato i rappresentanti dell'ADA, attuali gestori del Palazzietto dello Sport. Ho trovato persone disponibili, afferma il delegato, e già di questo siamo contenti. Credo che la convenzione con l'ADA sarà rinnovata, ma dobbiamo fare in modo di garantire spazi anche a quelle società che ci hanno richiesto delle ore, come Civo Volley, Otto Ruote Club e Cestistica. Per far sì che queste società entrino a far parte dell'ADA, ci saranno dei parametri che stabiliremo e che le società dovranno dimostrare di saper rispettare nel corso del tempo. Ci sono ancora dettagli da definire, per questo ci incontreremo nuovamente martedì prossimo. Sono partiti questa mattina da Fiumicino i due atleti Civitavecchiesi, Mattia Camboni e Veronica Fanciulli, che da domani saranno impegnati a Doblino, Irlanda, nei campionati mondiali ISAF di classe olimpica RSX. I due hanno da poco chiuso gli europei di Tallinn con ottimi risultati. Ma questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti a me. Non resta che augurarvi la felice prosecuzione con i programmi di Provincia TV. Grazie e buon proseguimento. Grazie. Grazie.